Ciao a tutti ragazzi, bentrovati allo Shibuya Cafe, io sono Luca. Avete visto martedì i videoacquisti di Chris, i manga e i fumetti? Di marzo e aprile 2021, oggi siamo qua per vedere i miei acquisti. Messi insieme fanno veramente tanta tanta roba. Cominciamo subito! Bene, mi muoverò in rigorosissimo ordine casuale, partiamo da Asadora numero 3. Come avete visto abbiamo fatto anche un video prima impressioni dove vi parliamo un pochettino dell'opera, andatelo a recuperare sul canale. È un manga che sinceramente all'inizio non mi aveva colpito tanto, poi ha iniziato a prendermi e non vedo l'ora che prosegua. Parliamo poi di Tokyo Revengers, il numero 1 e il numero 2. Ero indeciso, ero molto indeciso, volevo iniziare una serie nuova e ho optato per questa. Ne parlano strabene, ho aspettato che fossero usciti tre volumi per vedere un pochettino le persone come, insomma, ne parlavano, che opinioni avevano. E mi hanno convinto, Tokyo Revengers, J-Pop, 6,50€ e vi farò un video poi prossimamente che vi dirò che cosa, insomma, ne penso. E perché volevo iniziare una serie nuova? Perché sono finiti The Promised Neverland e The Quintessential Quintuplets. Due serie che ho letto veramente con piacere, The Promised Neverland, ragazzi, compratelo, leggetelo. E in questo caso vi consiglio di leggere il manga, assolutamente non di guardare l'anime, perché ci sono delle differenti e il manga è fatto veramente strabene. E poi The Quintessential Quintuplets, il numero 14. Come vi è sembrato la fine? Di che team eravate voi? Io, dai, sono stato abbastanza contento, ma poi forse farò un video, non lo so, ci devo pensare, alla fine è finito già da un pochino. Non c'è più hype su quest'opera, ma, insomma, a voi è piaciuto il finale? Facciamo un passaggio per Words and Harem numero 11. Un manga quasi entai di J-Pop che all'inizio mi aveva colpito tantissimo, oltre che per, diciamo, gli argomenti suppulenti, anche per la trama. Adesso la trama è diventata un pochino più inverosimile, ma devo dire che lo sto leggendo ancora con piacere. E, a proposito di manga che stanno avvolgendo al termine, vi faccio vedere Slam Dunk, uscito il 18 e il 19. È il manga sportivo più famoso di sempre, così recita la copertina, ed è il manga sportivo più bello che io abbia mai letto, così recita Luca dello Shibuya Caffè. Ragazzi, compratelo, leggetelo, il numero 18 e il numero 19. Veramente stiamo arrivando alla fine, il 20 porterà a conclusione quest'opera straordinaria. Avete qua dietro di me la figure con Anamichi e il prof Anzai, cioè veramente bellissimo, ragazzi, stupendo. Abbiamo fatto anche tanti video dove paragoniamo anime e manga, se mi va di darci un occhio. E poi un altro manga che sta avvolgendo al termine, Row Hero, finirà col numero 6. Sono curioso di capire se finirà in maniera tirata via o se comunque avrà un degno finale, perché non vendeva tantissimo in Giappone. Questo manga di Akira Eramoto, lo stesso autore di Prison School, i cui disegni sono, credo, i più belli, forse del panorama manga. Adesso, vabbè, non voglio esagerare, però tra i più belli del panorama manga del momento. E non ha avuto tantissimo successo, la trama è trash. Sarei curioso di leggere un'opera dove Akira Eramoto viene messo, diciamo, all'opera su una trama serie. C'è un'opera che ci ha consigliato uno di voi, che non so se mai arriverà in Italia, ma intanto per adesso a me stava prendendo. Chiaro, bisogna leggerla sapendo che è una serie trash. Video sul canale abbiamo fatto se volete andare a approfondire la trama. Passiamo poi per altre due opere, un po' agli antipodi tra loro, perché sto parlando di un commercialissimo shonen. Siamo arrivati al 27 di Mairo Accademia. Io sinceramente lo seguo volentieri, ha avuto degli alti e dei bassi, ovviamente, ma devo dire che comunque mi sta piacendo e continua a piacermi. E' chiaro, cioè, la storia è appassionante a momenti, altri no, ma anche nelle altre saghe degli shonen più famosi ci sono sempre stati, diciamo, dei filler, diciamo, delle saghe filler all'interno delle storie. E Mairo Accademia ha sempre qualcosa in più. Sta uscendo anche l'anime, tra l'altro su Mediaset in Italia è doppiato. Come sempre sono riusciti a fare una cagata, si può dire cagata. Comunque io continuo a seguire molto con piacere. E poi con un manga invece di nicchia, Hot Road numero 2. Questo l'ho acquistato grazie a voi. Ho fatto un video dove vi mostro l'opera, perché non è conosciutissima, Dain It, metà degli anni Ottanta. E' un'opera che comunque in Giappone ha avuto uno strascico enorme, ha avuto un peso enorme nella cultura dell'epoca. Si parla di Bozozoku, le bande di motociclisti, teppisti, fatte da teenager. E l'ho acquistato grazie a voi, perché l'anno scorso ho preso il numero uno, anzi all'inizio di quest'anno il numero uno, con le donazioni che ci avete fatto su Paypal. Cristian aveva preso, mi sembrava, Cthulhu o qualcos'altro, non mi ricordo più. Io avevo preso questo. Devo dire che, a parte il prezzo di Dain It, che è veramente altino, l'ho letto con piacere, mi è piaciuto. Ha una storia diversa da quelle che vengono pubblicate adesso, dei disegni molto particolari, andatevi a recuperare il video. Non posso poi non parlare di Spy Family. Numero 3 è uscito. Ogni volume per adesso sta uscendo in Regular e in Variant. I primi due li avevo presi in Variant, questo l'ho preso in Regular. È un manga genere spy story, ma genere commedia. Veramente molto carino, dal prezzo di 4,90€ per Planet. Quindi un manga, diciamo, destinato a una fascia di pubblico giovanile, anche perché il prezzo è tra i più bassi. E veramente mi sta piacendo tanto. Avevo fatto anche l'unboxing della prima edizione, che avevano fatto uscire un cofanetto speciale, andatelo a recuperare. L'ho seguito molto volentieri. È già andato abbastanza avanti in Giappone, sono curioso di leggere i prossimi numeri. Poi vi porto The Killer Inside numero 5 e numero 6. Thriller d'autore psicologico e violento. Veramente bellissimo. Uno dei seinen che più mi sta colpendo in questo periodo. Uno dei seinen meglio pubblicati da Planet. 7€, sovracoperta, colori e delle belle pagine bianche. È veramente bello, bello, bello. Abbiamo fatto un video, come vi ho detto, e mi ha colpito tantissimo. Andate a seguirlo. E poi terminiamo con i mattoni del mese. Terminiamo, aspetti a che ve li cerco di mettere in posizione, con Akira, il numero 1 e il numero 2. Katsuhiro Tomo. Ho fatto un unboxing approfondito del volume 1, dove vi faccio vedere lo spugnato, dove vi faccio vedere... Faccio vedere il numero 2. Lo spugnato delle prime pagine. Le pagine a colori. patinate all'inizio. Ogni bordatura di ogni volume è differente. Nel numero 2 siamo in azzurro, poi dopo cambierà. Vi ho mostrato tutto nell'unboxing. E dentro è stampato su carta tendente al giallo, ma abbastanza stessa. come facciamo, per esempio, conto come Alita, o come Alita, per esempio, che vi avevo mostrato oramai un bel po' di tempo fa. Questo è il numero 1. Bello, bello, bellissimo. Insomma, bello, bello, bellissimo, un po' per tutti i volumi che vi ho fatto vedere. Ma perché? Perché noi seguiamo solo, ovviamente, cerchiamo di seguire solo serie che ci piacciono. E quindi sono acquisti veri. E acquisti che noi seguiamo volentieri, per li quali, se avete domande o qualunque cosa, potete scriverci qua o su Instagram. Vi saluto e vi abbraccio. Un saluto da Luca e un saluto da Chris. Andate a vedere il suo video, se non l'avete fatto, di settimana scorsa, con tutti i suoi acquisti manga degli ultimi due mesi. Vi abbracciamo e vi aspettiamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!